iscriviti al canale non troppo un fan di ragnaros è brutto eh però cacchio quanto mi diverto qualcuno ha già avanzato le giuste relazioni su una nuova emoticon di budi ideata per essere chiaramente un anagramma di putin non sei il primo che lo dice e comunque la malizia è negli occhi di chi guarda lo short di oggi è incredibile ragazzi lo short di lo short che è uscito oggi è di una bellezza totale totale andate su tutti i social su instagram su tiktok dappertutto a super tile totale non sarebbe meglio metterselo su qualcosa di più pesante di quella magliettina la posso dire una maglia sotto una felpina un po' leggerina e poi una copertina l'amore che dà la copertina è unico esatto ma quanto è bello gv non lo so non hanno cuore i giovani dolci manca la chat a schermo ti meriti di meglio ecco prendi una moneta e dai in vestaglia mi sono state vietate dalla moglie cioè nel senso ho scelto di non farle più no perché spamma così tanto a due live c'è qualcosa che non va quanto è arrivata la classifica guarda hanno già vinto tu i nepponi ecco delle nuove rette però non la tua squadra ha un tocco di magia in più e tiro a farla in fretta bravo bravo gv bravo gv buona fortuna là fuori io credo in te se dono ti puoi scrivere mio nickname sul tuo imponente pettorale? si ma non ci sta cioè nel senso poi si verrebbe piccolo piccolo perché il pettorale è troppo grande e quindi il nome poi non si vede capito lo dico per te io non livellerei ah no si qua livello il negozio si allarga sempre più grazie a te non ne credo io le romano le manda che ne dico eh abbolo mi sa no questo è periccio buono 12 ecco delle nuove reclute daranno alla tua squadra un tocco di magia in più è stato bello stamattina devo dire che durante la live del tanda poi è successo di tutto se vedete le lag è noi mare perché sto facendo download sta dicendo che non vincerei mai perché pur si risponderei a dissi eh vabbè però sai non è dubbio sai che c'è facciamo fare un'altra così non c'è un po' le bagge comunque perdo eh no periccio buono 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 dai 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 ho guffato la grande ho guffato la grande ragazzi se non si guffa durante la pill cioè è fatta apposta per guffare dai 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 che poi gufo insomma si fa per fare un po di content ovviamente non ti permette vedi cosa succede quando ti vesti per l'occasione quante pizze prendo una milionata una milionata guardate come gode ma no dai non abbatterti una forza del genere era solo un sogno per questo servitore fino al tuo arrivo credo che non ho neanche fatto la quest poi coca è una bella serata per una serenata due compagnia blocchiamo l'ipolle attiva resisti puoi farcela di nuovo l'ho 100% non pensavo di essere così debole questa volta devo dire lo ammetto non 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 ma fuori ma so che puoi cavartela nella botte piccola c'è la magia buona servia per quello che dà tanto certo che posso prendermene cura io ecco una moneta d'oro grazie a me parti avanti parti avanti bene 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 buono cento per cento buono devo dare tanto anche idea questa è sì il cavaliero un ottimo pezzo il servitore resterà con te fino alla fine perché sono già fai chiedendo taunt porca vacca ci sono delle nuove reclute promettenti non lasciate ne sfuggire bene 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 avere un altro roll in realtà nada nada non è nada Eeeh... Trova a fare lui, invece che questo, forse. Mannaggia! Che c'è? Peccato 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 Dai 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 Crediamoci Crediamoci Crediamo No vabbè Questa cosa lo sta spammando Troppo Devo Devo bloccare Non ha molte alternative Lui è un buon pezzo Ma non ti ho Nella 2.6 Nella 3.2 Ma cazzarola Pazzesco Il mio lavoro qui è terminato Buona fortuna Sapevo che ce l'avresti fatta Però in genere ti ritirano di eteo no? Quei pezzi lì Credibile Credibile Adesso si fai così Taunt lo do qui O lo do qui O lo do qui Non so Dove dai taunt Questo è qua Continua così I servitori dipendono da te 99 Ottimo 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 Con calma Qua ti abbiamo fatto sapevo che ce l'avresti fatta è sempre lì stiamo prendi uno di quei servitori per la tua squadra ci sono delle nuove reclute promettenti non lasciartele sfuggire se ne vale la pena non è sì non è poi cosa giocare non sta molto brutto a casa sopravviveranno al centro della morte sei inarrestabile mi fai togliere la 16-18 non è lì guarda quanto va lento il gioco quando quando entra in gioco la baia è un'altra idea cioè nel senso o era mai secondo me no comunque questo è il top 3 si è un rallentamento osterano non so cosa succede ma ovviamente dobbiamo togliere quell'affare lì perché guarda là hai fatto cose sorprendenti là fuori sei il mio mecenate qua non c'è niente questo è figo cioè è figo insomma in realtà che dovrei dare di main shield sempre a lui se ho ancora prendo questo e lo metto potrei anche metterlo golden a lui scudo di vino qua scudo di vino su idea o su di lui ma che stiano avoid c'ho quelli i taunt si buffano con lui gli altri si buffano con l'eopower più o meno siamo qualcosa inarrestabile questo è un po' buffo di pezzi peggiori 4 da più 8 a 4 6 vitro bene meglio un gioco fluido o flexare la baia non hai tutti i trotti che schifezza gemme non credo di leggermelo a spostare coiler al posto suo eventuale barone c'è della discretissima fuffa l'unica cosa poteva essere fare il coiler adorato no vedi cosa succede quando ti vesti per l'occasione qui muoio è di quasi ma c'è un mio di gas che l'uco per destino che chi è quello per l'uco ma non vengo eliminato però per i osso di me cazzaiola ecco il morte è pericoloso là fuori ma so che puoi cavartela tutti iniziano da qualche parte ma so c'è addirittura la litogena vigilante potrei togliere anche l'ingannatore che è brutto assai a che ora ho pensato alla fine alle nove e mezzo cazzo ho dato taunt è la missata perché non hai fatto una semplice colazione ero già sveglio da tre ore che colazione è se sono sveglio da tre ore guardate com'è fluido il gioco cioè di che vi lamentate piano piano hai fatto cose sorprendenti là fuori mi hai dato di mattina mattina dai si chiama come si chiama ricordate anche selfless si chiama non ho paura di nulla assapora il gusto della sconfitta non dovevo mettere qui in seconda forse invece ci sta eeeh vabbè allora hitami più che osso no è certo lo scuro quello lì e come no per la top 2 non è male però qua secondo me si poteva fare di più devo dire la verità potevo mettere soprattutto nell'ultimo tour nooo potevo fare qualcosa di più il problema qual è è che io non avendo lui 36 punti vita io non so non è che devo vincere io devo vincere e continuare a scalare è un maitello dammi qua ciao ciao Grazie a tutti.